Si parte in Ferrari con Cristiano Luzzago e la sua 208 GTS Turbo, con Roberto Giolito FCA Heritage tra passato e futuro. Il mercato con lo strumento delle aste online con Luca Gazzaretti di CataWiki. Termina il centenario dei festeggiamenti zagato e si pensa al futuro, con Paolo Di Taranto. Centri storici inquinamento, la prospettiva dell'utilizzo delle auto storiche con il presidente del CMAE Marco Galassi. Grand Prix Bordino, appuntamento rimandato al 2021. Vi ricordiamo che nella grafica che segue troverete tutti gli orari delle repliche TV, i canali del digitale terrestre dove è visibile la trasmissione e i link per poterla rivedere sul web. Grazie per la visione! Grazie per la visione!